... Voglio dire una cosa, io mi chiamo Fulvio Abate, sono uno scrittore, sono la dimostrazione vivente che si può esistere senza bisogno di fare, come dire, dei servizi sessuali a battle del troni. Nel senso che nonostante sia stato cacciato da una serie di giornali, cominciare dall'unità normalizzata, esistono grazie a questa cosa, teledogruti, ossia un qualcosa che chiunque può realizzare in una piattaforma telematica dentro il web e esprime la propria opinione, il proprio pensiero sul mondo. Forse anche il più abberrante, forse anche, che ne so, l'apologia pura di nazismo, questo è possibile, quindi coloro che negli anni hanno ritenuto e ancora ritengono di poter operare quella che rosaicamente si chiama censura, se ne vanno finalmente a fare in culo. Un altro mondo è già possibile, mi giro così il mostro nella pienezza me stesso con la felpa di teledogruti, una televisione monolocale. Vai, perfetto, togli il cappuccetto, gira, perfetto, ok. Ora è sempre resistenza.